Intro Salve a tutti Blazers e bentornati nella serie di sopravvivenza Siamo nuovamente nella nostra bellissima zona giapponese Mi sono messo anche qui in alto per farvi vedere un po' Come appare vista un po' nel suo insieme Quindi abbiamo il laghetto, abbiamo il ponte, il ruscello, il castello e tutta la zona verde Non si vede solamente la zona zen che abbiamo costruito nella scorsa puntata Che purtroppo è nascosta dietro Però magari alla fine della puntata potremmo anche fare un giro del tutto Per vedere, diciamo, tutto quanto prima di andarcene Perché questa, ragazzi, sarà l'ultima puntata dedicata a quest'area giapponese È arrivato il momento di andare avanti, quindi fare nuovi progetti Magari cambiare un po' aria, cambiare un po', diciamo, tipologie di puntate Perché sennò facciamo sempre cose simili E per finire quest'area giapponese ho deciso di fare l'arredamento interno al castello Così come anche mi avete chiesto voi Perché nei commenti me l'avete chiesto in tantissimi Come si arreda un castello? E a me lo chiedete, non ne ho la più palida idea Tra l'altro le dimensioni non sono neanche adatte Per cui questo castello in realtà all'interno sarà una casa Voglio arredarlo come una semplicissima casa Quindi iniziamo mettendo giù la crafting e la chest Che ci può far comodo nei primi momenti Verrà arredata come una casa Perché anche la potrei poi utilizzare come seconda casa Ci potrebbe fare comodo E la prima cosa che salta all'occhio è che c'è un sacco di spazio Tantissimo spazio libero E a tal proposito possiamo sfruttare una particolare caratteristica Intanto sbirciamo il giardino zen da qui, dalla feritoia Solitamente le case giapponesi, quelle tipiche diciamo Sono abbastanza spoglie, hanno proprio il minimo indispensabile Non hanno 3000 comodini, 3000 aggeggi come noi Per cui sfrutteremo questa loro caratteristica Anche per renderci il lavoro più semplice Perché dovremo arredare una casa Però senza fare ogni angolo ben fatto Ma ci sarà solo lo stretto indispensabile Io inizierei a tal proposito dalla cucina Per cui innanzitutto ci facciamo il legno di betulla E però per il bancone della cucina potremo utilizzare il legno di abete Allora, come sono le cucine in Giappone, ragazzi? Sono come quelle nostre Non cambia niente, sono cucine normalissime Per cui ho deciso che per fare questa cucina all'interno del castello Ci ispireremo non a una casa ma a un ristorante Quindi mi voglio ispirare ai tipici ristorantini Quelli da strada, quelli fast food giapponesi In cui tu ti siedi sull'ipotetico bancone Che potremmo fare per esempio qui E ti siedi a questo bancone Mangi magari il ramen oppure il sushi O quello che servono, insomma Per darvi meglio l'idea Questi banchetti Questi, diciamo, ristorantini Hanno spesso tipo delle tende Quindi facciamo una cosa così Mettiamo questi slab Hanno delle tende poste dove ci sono le sedute Quindi tu arrivi per esempio per la strada C'è questo ristorantino che è aperto Ha queste tende che cadono in questo modo Poi vabbè andranno tutte aggiustate E sotto ci sono le sedie Quindi ti siedi al bancone Per cui noi potremmo fare una cosa Così E mettiamo queste tendine Ok A questo punto ci servono delle sedie Tra virgolette Come le facciamo le sedie? Ovviamente facciamo delle semplicissime scale Semplicissime scale Però Però mi conviene farle con questo legno Sì Ok Quindi facciamo così Le mettiamo qui Alla Ok Queste le togliamo E potremmo anche farci dei cartelli Per metterli di fianco Diciamo Quindi facciamo così E così Ce ne servono Quattro Quindi Facciamo in questo modo Dopo ritiriamo su tutto E li mettiamo Come poggia braccia Di fianco alle scale Facciamo anche una sorta di ghirigoro In questo modo Perché non lo so Fa Un dettaglio in più Sembra che sia tipo legno intagliato Quindi mi piace Quindi questa Sì mi da L'idea di bancone Non mi dispiace per niente Ora Potremmo Chiudere Anche lì sopra Quindi magari fare una cosa Così Nella parte interna Mettiamo Allora innanzitutto Svuotiamo un po' L'inventario Se no Se no Non riusciamo a fare niente Qui Ci mettiamo Due blocchi Di ferro Con la porta di ferro Per fare il classico Frigorifero Il frigorifero Lo mettiamo Nell'angolo Quindi qui Semplicemente in questo modo Facciamo tutta la cucina Quindi ci può servire Per esempio Un calderone Per fare da Da lavandino Ne ho già fatto uno Perfetto Quindi lo mettiamo Qui Mettiamo della cobblestone Per fare Da piano Per la cucina Che può dare un'idea Tipo di Di marmo Di granito Sì Potrei andare a prendere Proprio il granito E farlo così Però Lasciamo perdere Ci mettiamo anche Due fornaci Perché appunto È una cucina Le cose vanno anche cotte E Chiudiamo tutto Mettiamo una botola Per fare la classica Apertura da bancone In questo modo E mettiamo Qualche dettaglio Quindi magari Non so Potrebbe essere Un sushi bar Quindi ci mettiamo Del pesce Il pesce Che di solito Nei locali Che fanno sushi Va tenuto Nelle vetrinette In bella vista In modo che ti fanno vedere Che è il pesce fresco Noi non abbiamo Le vetrine In minecraft Per cui potremmo fare Semplicemente Che abbiamo Non lo so Un'esposizione Tipo Qui vicino al frigor Che ti dà l'idea Di freschezza E c'è dentro Il salmone crudo Oppure possiamo mettere Queste Dei vasetti Tipo qui Che ti danno l'idea Di ramen Servito Ci sono le ciotole Nel gioco Però purtroppo Non sono piazzabili Quindi ci arrangiamo così Ecco Una cosa molto semplice Però ha un suo stile Mi piace Mi piace Come cucina Carina Pensiamo ora A fare una sorta Di zona pranzo Purtroppo qui La crafting table E la chest Sono in mezzo Le palle Quindi adesso Le spostiamo Quindi a questo punto Ci facciamo Delle staccionate Di abete E facciamo un tavolino Quindi una sorta di Non di tavolo Da sala da pranzo Un tavolino Dove sedersi Riposare Leggere qualcosa O che ne so Quindi lo facciamo Esattamente qui in mezzo E iniziamo Scavando Un buchino qui E mettendo sotto Un altro blocco Di betulla In modo da chiudere così Il tavolo verrà Sviluppato intorno Quindi mettiamo I quattro piedini E mettiamo Questi mezzi blocchi Sopra Sì Viene un tavolo Molto alto Purtroppo È così In realtà I tavoli Giapponesi Di solito Sono Bassissimi Però Cosa ci dobbiamo fare Minecraft Offre solo questi elementi Potevamo mettere Le pressure plate Ma in quel modo Non potevamo fare Un'area di 3x3 E Comunque verrebbe Tutto staccato Farebbe un po' schifo Quindi attorno A questo tavolino Ci mettiamo Per esempio Quattro tappetini A indicare Proprio i cuscini Sui quali si siedono I nostri Amici Nipponici Ora vi direte Che cazzo serve Quel buco sotto È una cosa Molto carina Perché in Giappone Sotto alcuni tavoli Almeno Tavoli tipici Poi adesso Non so se Le case più moderne Ce li hanno ancora Queste cose Ma sotto i tavoli Hanno una sorta di buco Nel quale Mettono le gambe Quindi si siedono sul cuscino Le gambe vanno nel buco E attorno al tavolo Mettono tipo Una sorta di coperta Che isola le gambe Dall'esterno E in questo modo Le gambe stanno Al caldo Mettiamoci anche Delle lampade Quindi Tipo Sì così Va benissimo Ci mettiamo Le redstone lamp Che hanno Quell'idea Di Lampada orientale Che ci può stare Le dovrei accendere In qualche modo Mi servirebbe Magari una leva Una leva Però Ah no Sì si fa col pietrisco Giusto Quindi A posto così La leva La mettiamo qua dietro In modo che Rimane Abbastanza nascosta Perché comunque Noi vedremo la casa Da questo lato Più che altro A questo punto Io direi che questo piano Può andare così È molto spoglio Però dà Quell'idea giusta Secondo me Quindi adesso Andiamo a mettere Delle scale Quindi sì Una scala così Semplice semplice Che non è Affatto male Un po' in mezzo Le balle Ma non potevo farla Più a sinistra Perché qui salendo Si restringe tutto Quindi Come vedete Non c'era spazio E non la potrei fare Larga 2 Perché Se la sviluppo Ancora di più a destra Diventa troppo invadente Quindi potrebbe andare bene così Non mi piace il fatto Che dietro Non ci sia nulla Però Si potrebbe anche Pensare poi Di scavare Tutto qui E fare Oddio L'ho rotta però Ok E fare una scala Che va magari A un ipotetico Sotterraneo Oppure magari Fare un'uscita Per cui per esempio Una cosa del genere Tu entri da qua sotto C'è un cancelletto Per chiudere Perché lì la porta Non riuscivo a metterla E c'è la scala Che va giù Poi la scala Per andare su L'ho abbellita Con dei pannelli di vetro Che gli danno Un tocco più moderno E direi che si può fare così Quindi poi si sale E si pensa anche Ad arredare qua sopra E a questo punto Rimane in realtà Ben poco spazio Pensavo che Ne sarebbe avanzato di più Quindi Come possiamo Gestirci il tutto Allora Manca una camera da letto Logicamente E un bagno Sempre che Vogliamo fare un bagno Io non lo so Sinceramente Potremmo farlo Potremmo fare un Bagno tipo qui Piccolino Ma io comincerei Piazzando giù La crafting A questo punto qui Perché ci serve qui E facciamo un armadietto Perché no Quindi ci mettiamo Con il legno da bete Semplicemente Possiamo fare una cosa Così Ci mettiamo le due porte E Tac Un armadio Medioevale Occidentale In una casa giapponese Sì lo so che Non c'entra niente Però Come diamine lo facciamo Se no Un armadio Secondo me Un armadio Comunque ci vuole Quindi lo possiamo Tenere così Probabilmente Questa porta È quella che più Si avvicina A un'anta di un armadio Adesso Tralasciando il fatto Che si apre Internamente Non ha senso Però È quello che più Ci si avvicina Secondo me Ragionando invece Sul bagno Potremmo Non lo so Chiudere qui Facciamo una prova Quindi chiudiamo E Sì Potrei fare Oddio qua lo spazio per salire È veramente Wow È ristrettissimo Facciamo così E così In modo che Si riesce a salire Con più semplicità E poi quindi Potremmo chiudere Fino a qua Ok È soffocante Non lo so Potrebbe essere un po' Soffocante A dire la verità Però lo spazio È quello che è E potremmo fare Qui dentro Un piccolo bagnetto Quindi tipo Così Sì beh In modo che Basta giusto giusto Per metterci Un gabinetto E un lavandino Tutto qui Quindi qua Chiudiamo In qualche modo Anche se C'è Come posso fare È altissimo Sto tetto Con la sua porticina Tipica Ovviamente Così siamo riusciti Riusciti a ficcarci Anche questa Lì sopra Non va assolutamente bene Potremmo anche Prendere la scusa E usarla come una sorta Di postazione Per utilizzare La feritoia Che guarda esattamente Al gate Vedere se magari Arriva qualche nemico E attacca il castello È campata per aria Però potrebbe essere Un'idea risolutiva Quindi ci mettiamo Una scala Per salire Qualche staccionata E facciamo finta Che sia Una sorta di Appostamento E quindi Viene una cosa Del genere All'interno All'interno Ci mette Mio dio Il macello Che c'è Guardate È un puzzle Non è una parete Questa Vabbè Comunque sì All'interno Ci possiamo mettere Quindi Un water Per cui ci servirà Una botola Un bottone Ci servirà Un pezzo di vetro Per fare Lo specchio Quello ce l'abbiamo In realtà Per cui Questo sarebbe Il water Nell'angolino Triste Opprimente Con la tavoletta Che funziona Però Almeno quello E questo è il lavandino Sì Sì Sono uguali Quindi Non sai Se caghi Nel Nel lavandino O se ti lavi Le mani nel water O viceversa Comunque Non importa Perché questa stanza Non la vedrà mai nessuno Rimarrà chiusa Guardate che bel vetro Che ho fatto Questo è lo specchio Quindi tu praticamente La mattina Ti alzi dal letto Vieni qui Fai i tuoi bisogni Poi ti metti Allo specchio E fa tutto schifo Quindi chiudiamo E non guardiamolo mai più A questo punto Ci manca La camera da letto La camera da letto La faremo esattamente Qui Nello spazio avanzato Quindi A parte il fatto Che qui ci sono delle grate Perché da fuori Si vuole dare L'idea di un castello Ma da dentro Sembrerà un carcere Quindi non è una cosa Bellissima Ma comunque sia Facciamo questo letto E lo facciamo In che modo Prendiamo I Due letti Che mi sono portato E ne mettiamo Uno Non qui Uno qui E uno qui Poi Mettiamo giù Nuovamente La crafting table Facciamo Delli Slab Di quercia Anzi di betulla Scusate E li mettiamo Tutti Attorno Perché questa cosa? Perché In Giappone Hanno i letti Bassi Hanno i letti Proprio attaccati Al terreno E fare così Mi dà proprio l'idea Del letto Incassato nel terreno Guardate È proprio È bassissimo È alto come uno strato Di neve Visto così Per cui GG Abbiamo anche Il nostro letto Fantastico E abbiamo Anche Una Un'altra Crafting table Quindi questa La stacchiamo E ne mettiamo Una qui E una Dall'altra parte In modo da avere Anche due comodini Che fanno Cagare Ma poco importa Se vogliamo L'abbigliamo Con dei quadri Quindi per esempio Questa Grossa parete Ecco Con il Wither Così Proprio Sembra una cosa Cattivissima Potremmo invece Anche pensare Di mettere Dei bambù Qua sotto Facciamo Che scavo Anche qui E ci mettiamo La sorgente D'acqua In questo modo Dopodiché Prendiamo La sabbia La mettiamo Qui Che ha anche Un colore Simile alla Betulla Per cui non Dà Così tanto Fastidio E senza Vedere L'acqua Possiamo Piantare I nostri Bambù Anche in Casa Perché No Dai Ci abbiamo Anche Ficcato Un po' Di verde Quindi ragazzi Questo è L'arridamento Interno Del castello Lo so Che non è Venuto Spettacolare Anzi Tutt'altro Però è Molto Essenziale Quindi c'è Quello che serve Per sopravvivere C'è qualche Angolo Tipico Qualche idea Rappresentativa Mi piace Soprattutto La cucina Poi per il Resto Non è Niente di Particolare Tornando invece Alla zona Zen Vi faccio vedere Dei piccoli Dettagli Che ho aggiunto Vale a dire Eccoci qui Ho sostituito Le pietre Con i bottoni Di pietra Per fare i sassolini Che è Assolutamente Giusto E sano Di mente Da fare Quindi l'ho fatto Seguendo il vostro Consiglio E ho seguito Anche un altro Consiglio Bellissimo Vale a dire Quello di Stendere Dei fili In questo Modo Per dare Ok l'ho spaccato Però Perché sono stupido Per dare appunto L'idea Delle Delle striature Nella sabbia Che vi dicevo Nella scorsa puntata Non sapevo come rappresentarle Metterci del filo È assolutamente Un'idea geniale Perché dà Quel tocco in più E quindi ragazzi Siamo arrivati Alla fine Di questo Arco narrativo Tra tantissime virgolette Dedicato al Giappone L'area è completa L'arredamento interno Non è venuto Come avrei desiderato Sarò sincero Però Con lo spazio I blocchi che abbiamo Si poteva fare Ben poco Si poteva mettere Per esempio Il bagno termale Che abbiamo messo Là in casa Quello ci sarebbe Stato da dio Però Sarebbe stato Veramente lunghissimo Da replicare E non avevo Neanche I materiali giusti Quindi ragazzi Dalla prossima puntata Ci dedicheremo Ad altro Quindi Si volterà pagina E faremo Altre cose Che devo ancora Decidere Ma ho qualche idea in mente E ho una lista Di suggerimenti vostri Che potrei utilizzare Quindi non c'è problema Spero che vi sia piaciuta Questa puntata E che vi sia piaciuto Tutto questo approfondimento Su Diciamo Il mondo giapponese Riprodotto in Minecraft Se è così Lasciate un bel like Un commento Condividete Noi ci vediamo Nella prossima puntata Un saluto da Eren Blaze Ciao a tutti Ciao a tutti